Dal 6 al 25 ottobre è in scena al Salone Margherita di Roma lo spettacolo Uomini alla crisi finale, diretto ed interpretato da Pino Amendola con Giorgio Gobbi, l'indimenticato ricciotto del Marchese del Grillo, Angelo Maggi, il doppiatore di Tom Hanks, Bruce Willis e Hugh Grant e la splendida Anna Zimskaya, lanciata nel 2005 da Tinto Brass. Uno spettacolo che vede tre amici finalmente reincontrarsi in una piccola garçonnier dove per anni hanno giocato a carte, lontani dai problemi della vita, giocando con la vita stessa, ma irrompe nella tranquillità dell'incontro una splendida donna, pagata per fare l'amore con loro ogni primo lunedì del mese. Tra battute ed equivoci, il maschio italiano viene passato ai raggi X, mostrandone le lacune in modo assai brillante, come viene descritto dagli attori nelle interviste. Qual è il tuo personaggio in questa commedia? Beh, diciamo che io in questa commedia interpreto innanzitutto una donna molto attraente, bella e con un bel aspetto fisico e qui non ho assolutamente nessuna difficoltà. La difficoltà stava nell'altro che comunque devo interpretare una ragazza che fa il mestiere più vecchio del mondo e devo essere molto disinvolta sul palcoscenico per mettermi certi adecementi che magari nella vita normale uno non può assolutamente assumere. Però è questo il divertente perché mi do un libero sfogo a tutto praticamente sul palcoscenico, non ci sono i limiti, posso fare qualsiasi cosa voglio prendere in giro questi uomini, trattarli male, un po' stuzzicarli. Addirittura siamo arrivati per gli uomini alla crisi finale, ma cos'è successo? È successo che mentre le donne crescono, cambiano, si evolvono e si adattano, gli uomini sono più lenti, hanno più difficoltà a cambiare e quindi c'è una differenza tra quella che è la soli, tra uomini e quella che mostrano quando ci sono le donne e questo fa sì che si smascherino e diventano ridicoli, diventano comici, diventano oggetto di commedia, di grande divertimento e se sono tre anni che il pubblico viene a vedere questa commedia vuol dire che il pubblico si sente in crisi, il pubblico maschile. Devo dire che è una commedia che fa ridere sia gli uomini che le donne, perché le donne assolutamente concordano con la protagonista quando le canta di sonora ragione agli uomini e gli uomini si divertono tantissimo perché ognuno di loro nel pubblico pensa di essere meno ridicolo di noi che siamo qui sul palco. Allora dal 1981 il Marchese Grillo, il teatro nel cinema, qui siamo invece nel teatro, al Salone Margherita. Si ritorna al teatro? Si ritorna al teatro con grande piacere perché è un amore che non ho mai tradito, nel senso che poi ho fatto tanto cinema, tanta televisione fortunatamente, però al teatro non l'ho mai tradito, quindi dal 1981 mi alterno, fino ad oggi mi sono sempre alternato facendo il palcoscenico e il set. È un amore diverso ma è comunque un amore grande e mi lega al teatro una passione nata a scuola. Quando facevo l'Accademia Fersen, il rapporto col pubblico diretto, la gente che ride, che si commuove e quindi insomma un grande piacere. Qual è il suo personaggio? Allora il mio personaggio è Ciccio che è un inguaribile mammone, un uomo particolarmente imbranato, particolarmente attento al cibo, un magnone come si direbbe a Roma ed è un ragazzone, un uomo non cresciuto, un uomo di 50 anni ma che in realtà c'ha dentro un'anima di uno di 20, con tutto quello che un ragazzo di 20 anni può avere, quindi c'è l'aspetto ludico, c'è il cazzeggio, c'è anche quell'aspetto adolescenziale di rapporto con le donne che contraddistingue Ciccio. Ciccio è un imbranato cronico, cerca di millantare capacità amatorie che in realtà non ha, insomma, con la bellissima ragazza cerca di millantare capacità amatorie, però poi in realtà è un po' raccio. Questa PIS, Uomini alla crisi finale, intanto è la terza stagione che lo facciamo e quindi vuol dire che lo spettacolo ha avuto un grande successo, quindi lo replichiamo per la terza stagione in questo bellissimo teatro Salone Margherita. Intanto la grandissima gioia di fare questo personaggio che mi diverte tantissimo, mi piace, mi diverto e poi lavorare con tre colleghi fantastici, Pino, Giorgio e Ania sono tre persone meravigliose, oltre che tre grandi professionisti. Il mio personaggio sono, la storia è una storia apparentemente, il mio personaggio apparentemente è il figo, è quello sicuro di sé che fa il figo con questa ragazza, mentre gli altri due imbranati, un po' li viglia in giro, però invece vedremo alla fine della commedia, però non vorrei svelare ai telespettatori, non vorrei svelare il finale, però alla fine si rivelerà anche lui un poverino, un poveretto, quindi c'è questa doppia faccia di questo personaggio che si chiama Angelo, perché tutti i personaggi di Pino, delle commedie di Pino, hanno il nome dell'attore che li interviene, non tutti, ma insomma spesso, il mio personaggio si chiama Angelo, e Giorgio, per esempio Giorgio Ciccio, però è Giorgio Colacioni detto Ciccio, per cui si rivela anche lui un poverino alla fine, soverchiato dalla moglie che lo maltratta, lo tiene proprio come un cagnolino al guinsaglio, è un grande divertimento fare questo personaggio, è proprio divertente.